Ciao a tutti e buona giornata! Oggi prima di tuffarmi in una giornata che poi so che è molto impegnativa e dura sono venuto qui al mare per un momento di priera personale e di relax e guardavo una nave che stava all'orizzonte e vedevo dietro una scia di spuma però poco dopo il mare aveva ripreso il suo normale ritmo e non c'era più traccia della scia e del passaggio di quella nave Sapete cosa stavo pensando? Che la nostra giornata di oggi non sarà proprio importante non lascerà traccia nella storia nessuno leggerà il diario oppure leggerà qualcosa che abbiamo fatto oggi e non è vero perché nel cuore di Dio questa giornata lascerà una scia per sempre, per tutta l'eternità beh, dipenderà da noi se il Signore scriverà caratteri d'oro nella nostra giornata e se lasceremo una scia d'amore una scia di gioia, di lode, di supplica nel cuore di Dio e allora buona giornata che possiamo questa sera dire oggi, nel cuore di Dio questa mia giornata ha lasciato una traccia di amore e di fede ciao a tutti buona giornata